C'è una legge, legge calcistica, questi vogliono togliere, è una buffonata, è ovvio chiaramente, però questi che cosa vogliono fare? Vogliono togliere gli striscioni, per la polemica, Roma, ok, a prescindere dal discorso Roma, capito? Togliamo il discorso Roma, parliamo proprio di tifoserie, io per esempio sono d'accordo con Ferrero, perché Ferrero dice ok, controlliamo gli striscioni, quelli violenti non entrano, ma gli striscioni sono molto spesso anche goliardici, facciamo un esempio, tu che sei tifoso del Napoli, Giulietta Nazzoccola, è uno dei più bei striscioni mai esposti. Però io ho preso tutto del Giulietta Nazzola, per carità, però c'è umorismo, se tu togli tutti gli striscioni, ok, togli anche quelli violenti, però togli molto spesso, tu immagina un derby, immagina che sei una partita importante di cartello, non mollarlo mai, io mi ricordo uno striscione di non mollarlo mai, vabbè, a parte questo qui, parlando di umorismo, insomma, non è che sia proprio il massimo dell'umorismo, però, comunque sia, cerchiamo un attimino di ragionare, insomma, io farei innanzitutto questo, ogni squadra di calcio dovrebbe avere un proprio stadio, in modo che così il presidente paga, un proprio personale che controlla tutti gli striscioni, in modo che così, se poi entra uno striscione, io ti faccio un bucio di culo così a te, presidente, che dovevi, chiaramente poi quando invece lo stadio è del comune, tutta una serie di cazzi, giustamente non è che, allora, voi che ne pensate degli striscioni, li mettiamo, non li mettiamo, io li metterei pure i tamburi, figurate, i tamburi sono bellissimi, per me lo stadio è, tamburi, fumogeni e striscioni, goliardici per carità, anche il megafono, anche il megafono, il megafono c'è, vabbè, comunque, ecco, ah, c'è, vabbè, sì, poi te lo porti, insomma, te lo fanno entrare tranquillamente, adesso non ti col megafono, che cazzo, vabbè, allora, ragazzi, dite la vostra, striscioni sì, striscioni no, perché, i tamburi, i fumogeni, se no, cioè, stiamo sempre a casa, ognuno sulla poltroncina, non succede niente, ci insultiamo via chatto. Ma io vorrei, io per le striscioni goliardici, uno stadio all'inglese, dove tifosi del Celso e del QPR, stanno seduti vicini e non si dicono niente, se no, ridono, pensano, poi, se dopo fuori, se incontrano i malintenziali da una parte, i malintenziali dall'altra, vanno sotto dove gli pare, semenano, quando hanno finito i malinti a casa, e basta. Ma addirittura loro fanno anche dei campionati di pestaggio, cioè, vediamo, che ne so, giovedì, ma giovedì non c'è la partita, beh, vediamoci comunque, 30 contro 30, a darmi pari, senza mani, e semenano, e poi vede, chi ha vinto, quanti contusi, e c'è una classifica che viene studiata, però in Inghilterra non c'hanno le bandiere, mi pare, non c'hanno le bandiere e le strisciote. E che cazzo, però, cioè, è un stadio triste. Eh, lo so, è triste, però, puoi andare a vedere la partita con il tuo figlio, a Londra, nel derby, che nessuno dice niente. Vabbè, ma a me ne hai bandiere, un po' di colore. Danno fastidio, manco semenano. La sciarpetta sema entrava. La sciarpetta sì. Oh, che cazzo? Non si può manco fumare in Inghilterra, dentro lo stadio. E quello vabbè, perché mi stanno sul cazzo pure a me. Perché io fumo, per esempio. E tu fumi, fumi tra il primo e il secondo tempo. No, non si può, dentro lo stadio, non si può fumare. Scegli un attimo. Scegli, scusa, io sono quello che... Aspetta per me, posto tuo, prenotato. Vabbè, comunque, ragazzi, diteci la vostra. Noi siamo per... Perché siamo? Per il bello del calcio. Il bello del calcio, secondo me, sono anche gli striscioli goliacci. Salute. Ciao.